In questa video guida parliamo di soffioni doccia. Vedremo cosa considerare per scegliere il miglior prodotto. Il soffione della doccia è la bocchetta dalla quale esce l'acqua quando ci concediamo una rilassante doccia. Esistono tanti tipi di soffioni per doccia. I modelli standard permettono il semplice passaggio dell'acqua, senza poter regolare il tipo di getto. I soffioni più complessi, invece, permettono di regolare il tipo di getto. Possiamo, ad esempio, selezionare un getto più consistente tramite il quale massaggiare la nostra pelle o un getto più fine per stimolare l'epidermide. Alcuni soffioni permettono di godere di getti particolari. Ad esempio, sul mercato sono presenti soffioni che coprono tutto il piatto doccia o che permettono di essere investiti da un getto d'acqua a cascata. Grazie. 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 Grazie.